Ciao tifosi del Cagliari, oggi abbiamo una notizia che potrebbe far battere più forte il cuore di ogni tifoso. Sembra che il ritorno di Gianluca Gaetano al nostro amato Cagliari stia diventando sempre più una realtà concreta. Secondo le informazioni del rinomato giornalista Nicolò Schira, il Cagliari ha già raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore per un contratto di 4 anni, valido fino al 2028. Esatto, gente, Gaetano potrebbe indossare la nostra maglia fino alla fine di questo decennio. Ma, attenzione, c'è ancora un dettaglio, manca l'accordo finale tra i due club. Al momento, il Cagliari sta negoziando con il Napoli i termini finali, inclusi i costi e la formula della trattativa. La dirigenza rosso-blu sta facendo di tutto per chiudere questa trattativa e riportare Gaetano a casa. E allora, ragazzi, cosa ne pensate? Gianluca Gaetano è il nome di cui abbiamo bisogno per rafforzare il nostro centrocampo? Commentate qui sotto, e non dimenticate di mettere mi piace e condividere il video per supportare il nostro canale. Andiamo, tifosi, vogliamo sentire la vostra opinione!